La Nazionale e i suoi partner ufficiali insieme per lo Sponsor Day 2014. Questo è lo scenario nel quale si è svolta la prima giornata della seconda fase del ritiro azzurro premondiale, una giornata caratterizzata dal rinnovato matrimonio tra l'Italia del calcio e i suoi sponsor. Essere qui è sempre un'emozione molto forte, è un momento di grande piacere per gli sponsor, per la possibilità di incontrare e di avere vicino i grandi campioni che poi parteciperanno al prossimo mondiale. Sono sempre bei momenti. Una giornata di festa insomma per caricare gli azzurri in vista dell'impegno mondiale in Brasile in programma il prossimo mese di giugno. Oggi è lo Sponsor Day, giornata nella quale anche noi abbiamo la possibilità di contattare e chiamare i nostri principali clienti. Pertanto per queste persone poter trascorrere una giornata in questo ambiente straordinario di Coverciano, a stretto contatto con i propri beniamini della nazionale di calcio, è un'occasione sicuramente importante. Un evento diventato da dieci anni a questa parte ormai un appuntamento imperdibile che rappresenta la volontà di voler rilanciare il Made in Italy, partendo proprio dalla nazionale quattro volte campione del mondo. Oggi è stata una giornata molto piacevole, come al solito è già il terzo anno che partecipiamo a questo evento come sponsor della nazionale, quindi è sempre un'occasione oltre che di visibilità sul nostro investimento anche di scambio di vedute e di esperienze anche con altre aziende sponsor. IP è un marchio italiano, come ovviamente la nostra nazionale per definizione, e vicinanza all'italiano, vicinanza da un punto di vista territoriale, perché IP è una rete estremamente capillare, ma anche vicinanza in termini di valore, quindi di relazione. Italianità, quindi un senso di appartenenza al proprio paese che per qualcuno nasce già qualche decennio addietro. Il rapporto tra Fiorucci e la nazionale è un rapporto per noi fondamentale, proprio perché Fiorucci è il mondo dei salumi che connota l'Italia in Italia e nel mondo praticamente dal 1850, quindi la naturale declinazione di questo nello sport è la nazionale. Identità, storia, ma anche passione, quella che lega ormai da molti anni l'Italia del calcio ed il marchio Nutella. Siamo qui a Coverciano appunto perché Ferrero vuole offrire queste copie ai giocatori e poi io voglio incontrare il cuoco della nazionale che ha fatto questi sport meravigliosi, insomma tutto sommato credo che sia bello in questo avvio di esperienza della nostra nazionale che ci sia anche un momento di dolcezza. Noi come tifosi della nazionale non possiamo che dire Forza Azzurri. A concludere la giornata è stata poi la foto di rito alla quale ha preso parte tutta la squadra capitanata dal CT Cesare Prandelli. Il modo migliore insomma per gridare tutti insieme ancora una volta Forza Azzurri. Il modo migliore insieme ancora una volta per la squadra